All'Ersta Meteo chiusura scuole. Domenica scorsa c'è stata una serata nottata tra i vari comuni e soprattutto tra i ragazzi che vanno a scuola ma anche degli insegnanti a capire se il giorno dopo andavano a scuola oppure no. Lei questa volta ha chiuso le scuole della sua città ma a parte questo il sindaco di Noceri Inferiore Torquato ha detto così non possiamo andare avanti a ordine sparso e ha scritto al prefetto per chiedere un coordinamento quando c'è questo problema. Io credo che sia una buona iniziativa presa dal sindaco di Noceri Inferiore, un'iniziativa della quale si parlò già qualche tempo fa se non ricordo male e quindi noi siamo a disposizione perché è anche giusto secondo me che non venga lasciato tutto sulle spalle dei sindaci anche perché noi non siamo dei tecnici specializzati quindi la nostra responsabilità è volta a valutare se ci può essere un rischio ma se la protezione civile regionale ci mette un'allerta che è arancione e non gialla già sulla gialla ognuno fa le sue valutazioni perché siamo in un rischio basso ma quando ci mette un'allerta arancione ci fa presagire e presumere che ci saranno degli eventi climatici che possono creare qualche pericolo o disagio ai nostri concittadini e quindi noi siamo portati più a emettere l'ordinanza di chiusura delle scuole per una sicurezza dei nostri concittadini. È giusto che ci sia un coordinamento di modo che non agiamo in ordine sparso ma in qualche modo agiamo tutti nello stesso modo anche se ricordiamo ogni territorio ha le sue caratteristiche idrogeologiche e morfologiche per cui ognuno poi agisce anche in base alle proprie caratteristiche territoriali.